Ciabatti, 119, 71esimo premio Strega e Paolo Cognetti con 208 voti. Ho fatto un incontro anni fa con le biblioteche di Roma, sono stato accolto benissimo. Un libro si intitolava Pesca nelle pozze più profonde sulla scrittura di racconti. Ho mancato quest'altro perché ero molto stanco. Questo premio Strega mi ha approvato, devo essere sincero. Mi prometto che tornerò e spero di vedervi presto. Grazie a tutti i nostri spettatori.